Scusi, è lei che fa i ritratti? Sì, certamente, ora si può accomodare in quella sedia, così deve stare un po' ferma per circa mezz'ora e vada pure. Grazie, molto felice, è molto brava, ho visto i suoi ritratti, sono veramente... Ma io la ringrazio, direi di guardare in quel senso lì, così facciamo bel tre quarti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.